Su Dragon's Dogma 2 ho delle perplessità, ovvero OVAIA. Più guardo video e più mi sembra non abbia un'animazione vecchiotta, lo sai quello perché OVAIA? Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, tra l'altro. Quello lì è anche perché, come abbiamo detto molte, 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 molte volte, c'è un problema proprio a livello di gameplay, di come li fanno. Li stanno facendo fare i gameplay a persone che non sanno giocare. Fanno sempre i soliti tre attacchi, se incartano e compagnia. Stanno proprio sbagliando a chi far fare i gameplay. Infatti io vi consiglio di andarvi a vedere The Rift. The Rift che è un'altra persona praticamente come me, mega fan, che ce l'ha tenuto per le mani e ha fatto le cose. E questa è una cosa che mi dispiace perché me lo state dicendo in molti, anche persone che non sono molto vicine a Dragon's Dogma 2, ma è normale perché lo stanno facendo passare come un gioco molto lento, quando in realtà Dragon's Dogma è molto veloce, Dio Cristo. Stanno sbagliando proprio tutto l'approccio di come lo stanno pubblicizzando. Più vedo i gameplay e più li sto ignorando. Perché ogni volta che vedo un gameplay da una persona vedo che non fa un cazzo. Non so come dirvelo, se io mi avessi la demo di Dragon's Dogma 2 in mano e sto con un guerriero, mi metto a fare gli esperimenti, se i perry hanno quelle grandissime sfere di counter come nell'originale. Cioè che se tu facevi un cazzo di perry a una chimera che ti assaltava la battevi. Mi metto un attimo a spippolare se c'è stanno delle combo, se c'è stanno delle finish, se c'è stanno delle interazioni, se ho una classe magari un po' più pesante. Il mio peso influisce molto di più sulla stanza del nemico perché hanno introdotto pure sta cosa, hanno fatto vedere. Cioè c'è stanno le clip del distruttore a due mani che cade sopra un mostro e lo distrugge perché pesa l'idea di Cristo e attacca come una madonna. E invece poi vedi i gameplay del cazzo con l'arcieri che fanno solo attacchi base e il guerriero che sta sempre a fancazzo. È ovvio che te cascano le palle, Dio Madonna. Io dello stregone so solo che sviene, sì, ho visto i nuovi gameplay dello stregone e del distruttore. Da quel poco che si era visto intrigavano perché erano molto più veloci, molto più dinamici, molto più uncatti all'interno del combattimento con il distruttore che adesso praticamente può caricare tutti i suoi attacchi. Può arrampicarsi sulla testa di un mostro, tirare una madonna sopra fortissima caricata. E poi vedi i gameplay fanno tre cose. Prendono solo pizza in bocca, ma Dio Madonna. Ma prendete qualcuno che sa fa, prendete uno degli sviluppatori e fateli fare il gameplay. Non fatelo a persone a cazzo. Soprattutto perché molte volte gli danno la demo in giapponese, quindi ce la capisci ancora di meno. Pure il primo, Dragon's Dog, ma a livello di gameplay c'aveva talmente tante piccole chicche, a livello di gameplay, di meccaniche nascoste e compagnia, che è ovvio che se tu poi a una persona fai vedere la combo base del guerriero in ciclo, tu dici, vabbè, fai ste cose solo. Quando in realtà è una figata, che ne so fare, quella combinazione tra vocazione dove il guerriero ti prende, ti blocca una persona e il ladro arriva e gli può fottere un oggetto anche della realtà leggendaria. Oppure il guerriero che ti blocca una persona e viene sniperato, il guerriero che ti butta un nemico in aria e viene colpito o gli fanno un follow-up. Voi l'avete visto insieme a me durante la serie su Dragon's Dogma 1, che è stata una delle serie più seguite del canale. O che era diventata la mia cazzo di ombra. Cioè c'era quella sinergia anche con le pedine e compagnia che è una figata. Io sto vedendo gente che va in giro per i mondi, sempre lo stesso mondo, sempre la stessa zona, sempre con gli stessi livelli, sempre con le stesse combo, sempre con gli stessi oggetti e fa sempre le stesse cose. Cioè, Dio Cristo, io avessi la demo in mano, prima cosa che facevo, mi buttavo da un dirupo. E vede se c'erano i danni di caduta, se c'erano animazioni particolari. Perché mo' negli ultimi trailer, per esempio, hanno fatto vedere che noi avremo una mount. Noi avremo un grifone come mount. Quindi mi immagino quei momenti in cui tu ti lanci nel vuoto, ma tappare sotto il grifone e poi utilizzarlo. Cazzo, uno deve darlo anche un attimo in mano a delle persone che sanno quello che cazzo stanno a fare, Dio Cristo. È come se io do Dark Souls invece dalla Sabacuo, ma da una persona che gli fanno schifo i soldi. Non c'ha senso. Magari sono anche limitati per quello che possono anche far vedere la Capcom, ma sicuramente. Ma perché tanto stanno dando sempre la stessa demo, Matt, è quello il fatto. Stanno dando la demo della TGA e mo' c'è apparsa una nuova roba con Stregone e Distruttore, che poi in realtà è Guerrier. Non ho fatto vedere che, tranne forse nell'ultimo video, che ha un'armatura pesante e non ho capito. Quello perché è il Guerriero slash Distruttore. Che è diventato molto bello da quel che ho visto, perché appunto hanno implementato all'interno di Dragon's Dogma 2 tutta la questione dell'equilibrio, della fisica, del peso, del poter sbilanciare i mostri proprio con il proprio peso effettivo, dell'arrampicarsi, e quindi il Distruttore è diventato molto più figo. Perché avere un Distruttore che si può mettere su due piedi, sulla groppa di un mostro, per poi dirai una tramvata nella Tempia, fa roba. Il avere un Distruttore che ti si lancia da un dirupo addosso al mostro e può farlo sbattere al muro è interessante. Dragon's Dogma 2 ce l'ha del potenziale. Da quando mi avete detto soprattutto che è diventato il progetto Capcom su cui hanno speso più soldi, io cazzo ho paura. Perché mo' piccolo spoiler di una possibile serata extra della settimana prossima. Io, settimana prossima, volevo portarvi un gameplay di Dragon's Dogma Online. Perché io sto lavoricchiando dietro alle quinte per portarvi una live per farvi vedere che cazzo era Dragon's Dogma Online. Perché Dragon's Dogma 2 è tanto, tanto influenzato sia da Dragon's Dogma 1, ma tantissima, ancora di più, da Dragon's Dogma Online. Perché tutta la questione della lama magica, col tizio che ha la magia in una mano e la spada nell'altra, che qua viene chiamato tipo il lanciere magico, quella viene da Dragon's Dogma Online. Con il periodo che sta avendo la Capcom, con i fondi che ci hanno messo, con lo stare zitti, 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 Dragon's Dogma 2 può fare veramente il botto. L'unico fatto è che proprio a livello telematico, cioè proprio a livello di come tu comunichi la roba, stanno facendo una merda, una merda stanno a fare. Perché come l'hanno annunciato, allora io mo' non so se è vero o no sta cosa, credo che sia a sto punto, è il lavoro Capcom su cui hanno speso più soldi. Dio madonna, tu non li fai apparire dieci minuti a cazzo in una live che ha maglietta, stanno a fare Dragon's Dogma 2, e poi li fai risparmi per un anno. Che cazzo del modo di comunicare? Tu non fai fa' i gameplay a cazzo alle persone che non ne spiccicano metà del gameplay, che se vede sto stronzo che corre per i boschi. Se tu devi far vedere nello showcase del gameplay, non mi devi fare un video che c'ha un bitrate di merda, e che si vede il DLSS a prestazioni massime che mi smolecola tutto. Perché a me pure quella è la cosa che mi sta spaventando. Io spero che sia perché era una beta, un alpha o quel che cazzo era. Ma a livello di framerate, da quel che ha mostrato, io ho paura. Io nel mio piccolo so che probabilmente non sarà così. Perché? Perché è Re-Engine. Ci hanno fatto Resident Evil 4 Remake, è la Capcom, la Capcom sa ottimizzare bene i giochi e compagnia. Però capisco anche che una persona che se ne intende di meno, che spippola di meno e compagnia, vede quel cazzo di gameplay, parte che pensa che molte persone me l'hanno detto, c'ha grafica uguale a Dragon's Dogma 1. Che non è vero. Basta che pensi che Re-Engine ci hanno fatto Resident Evil 4 Remake. Non può essere uguale a Dragon's Dogma 1. Però un po' li capisci, perché questi hanno visto gameplay dove c'è stava sempre uno stronzo che faceva tre cose in croce. Dall'altra parte, loro non parlavano mai. E quando desce qualcosa, vedi il bitrate sciolto con il video che appena girava la telecamera, implode tutto quanto. Te stai a vende male. Quando, appunto, se è vero che ci hai speso il più grande quantitativo dei soldi di tutta la vostra storia, porca droia. Speriamo che ci credano più, ma per forza ci stanno a criticare. Se è il progetto con cui hanno speso più soldi, non è che... Cioè, io spero che ci stiano credendo, perché non credo che tiri soldi a cazzo in giro. Come lasciare giocare la Sabri Game? Ecco, esattamente quella roba. Matt, esattamente quella roba. Dove ci sta, boh, Kingdom Hearts 3. Ritornano tutte le cose alla grafica dieci anni dopo, dodici anni dopo. Ma non mi ricordo esattamente. Quest'atta che fa questi, come si chiamano? Fossero stati nessuno. Fossero stati nessuno, lo capivo. Lo capivo. Lo capivo. Lo capivo. Forse, no. Non lo capivo. Manco per il cazzo lo capivo. Tanti agli Heartless. Chi so questi? Totonna. Che cazzo mi hai fatto rinascere l'odio, Matt? Ma vedi quell'impressione che ho avuto? Eh, lo so, vai, ma me lo stanno dicendo tantissime persone. Io da una parte, non vi posso dare nessun torto, eh. Se io vado in gira di O, A, B, C, D, e io ho detto A, B, C, D. Cioè, se io faccio quelle cose, non era intenzione, eh, eh, non sarà così, ma ho detto A, B, C, D. Quindi se tu ti presenti al web in quel modo, la gente ti vede in quel modo. Mi piace che create queste cose. Io vi ripeto, quando uscirà Dragon's Dogma 2, preparatevi. Perché ve lo porto veramente come sabbacu, porca troia, vi ha portato Dark Souls 2. Cioè lì, altro che il gameplay del cazzo, si andrà veramente ad infilarsi nel capire il gameplay, nello spippolare, nel vedere anche la lore, perché sono tanto, tanto intrigato. Voi fidatevi. Speriamo in Cap God.